Musica Ogni brano ha di per sé un'indicazione. Possono essere nuvole, sorrisi, storie di bambini, granelli di sabbia e da lì ognuno ovviamente si racconterà la propria storia. Perché io posso solo suggerire la mia. Cominciamo un po' dalla domanda da 100 milioni di dollari. Ma qual è il segretto della musica di Ezio Bosso? Questa cosa che dolcemente ti violenta, ti prende da dentro e ti spreme il cuore? Penso che la musica di Ezio Bosso sia avvolgente, così come era lui. Quindi il valore della musica di Ezio Bosso che c'è è un valore assoluto. Ma è anche un valore, secondo me, extra musicale. Quando suono divento un altro, quel compositore con cui vivo o convivo a volte malamente. In tutto questo la malattia quanto ha influito? Perché ovvio che si vede questa resilienza molto forte nella difficoltà. Può essere anche questo sicuramente, anzi potrebbe essere stata una spinta creativa anche quella. Esatto. È proprio così. È triste dirlo. Però se ci pensi, in qualche modo la musica se ne è giovata. La sua forte spinta motivazionale. Perché la sua reazione da una persona molto forte dal punto di vista mentale e anche fisico. Perché lo dice Walter Malosti, lui aveva un fisico eccezionale. Perché per resistere a questo... Sai che il primo titolo del documentario in realtà era Nonostante tutto. L'isolato era un isolato enorme. Tutti gli operai. Il palazzo di Napoletano, il palazzo di Calabrese. Eravamo due famiglie. I piemontesi. C'erano gli anni di piombola, gli anni delle gang. Erano gli anni delle gang giovanili e delle gang di strada. Si giocava in questa piazza che non è una piazza, che non è un giardino, che è un mercato. Che è la piazza Barcellona. E si giocava lì. E lì c'erano tutti. E a volte arrivava l'avvertimento. Tutti a casa che stasera c'è qualcosa. Mi ricordi, diciamo, poi più o meno all'età mio, sono del settanta, lui del settantuno. Viene fuori questo ragazzo, com'era poi prima di tutto questo? Anche un po' forse non convenzionale, no? Assolutamente. Beh, lui è... Guarda, io ho incontrato molte persone che lo hanno conosciuto, musicisti, eccetera. Perché ho voluto rappresentare anche la Torino creativa degli anni tra 80 e 90, che era una città molto vivace che usciva dal grigiore della Fiat. E mi hanno detto, sai, Ezio Bosso sembrava un romanziere russo dei primi del Novecento, con queste sciarpone, queste cose. Era una persona assolutamente fuori dai canoni della musica classica. Uno che ha suonato in un gruppo mod, ha fatto hip-hop, colonne sonore, e poi è diventato quello che è diventato, insomma. Sarà stato il 76-77, c'era una trasmissione, Odeon, tutto quanto fa spettacolo. E avevamo visto per la prima volta i punk. Credo fosse stata fatta su Berlino, perché io mi ricordo proprio chiaramente che poi imitavamo quello che si vedeva alla televisione e avevamo inventato una specie di varietà, io e Ezio, che giocavamo insieme, saltando sul letto dei nostri genitori, che si chiamava Salti sulla pancia di papà. E presentai un artista, anzi, diedi le solite cose da bambini, e lui, con una finta chitarrina, si presentò come Ezzi Bezzi, con un brano, Ezzi Bezzi, perché eravamo rimasti molto colpiti da questi punk, Ezzi Bezzi con un testo di la canzone che era Rutto e putto, son distrutto. Il cinema, ovviamente, le colonne sonore di Gabriele Salvatore, insomma, che parte occupa in questo locufilm e poi nella musica di Bosso, no? È stata la motivazione fondamentale di farlo, perché Ezio Bosso ha cominciato molto a lavorare col cinema. Lui scriveva e ha scritto colonne sonore con un taglio particolarissimo, molto cinematografico, cosa che ha capito Salvatore Senna. Per chi ama la musica, Abbey Road è un luogo magico, anche perché ci sono ancora le chitarre dei Pink Floyd, il Ray Vox, con cui i Beatles hanno inciso Sgt. Pepper's. La cosa meravigliosa è che in quello studio, davanti a una sessantina di elementi della London Symphony Orchestra, Ezio, dirigendo, era in piedi, anzi sembrava volare. Le cose che restano, resta tanto, perché la musica, quella resta, non è come il cinema, cioè, non come i libri, ma anche se gli autori non ci sono più, le cose restano, quelle restano e quindi non ce la facciamo nemmeno la domanda, perché lo sappiamo già. E invece di Ezio, di lui, io non l'ho conosciuto, però immagino lei sì, e cosa resta? Resta questa grandissima capacità, lui stabileva una fortissima empatia col pubblico, sia di mille persone, di 5.000, ma anche con una persona. Questa è una grandissima capacità che aveva. e quella resta, perché anche se non c'è, c'è lo stesso, sta qui. La vita è una musica meravigliosa.